Signore e signori, un ben ritornato a tutti in questo nuovo episodio di Factorio episodio nel quale stranamente incominciamo che sta diventando giorno e abbiamo delle grosse 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 novità per quanto riguarda il nostro mondo ovvero la novità più grossa è che ho più o meno sostituito quasi tutte le fornaci che facevano cose nel senso abbiamo a parte un paio tipo questa, tipo questa striscia qua che forse avevo già fatto vedere e una parte dell'acciaio che come potete vedere è già sostituito ma non si è ancora svuotato del tutto il nastro per poter avviare le trevelle elettriche noi praticamente abbiamo completato quasi la conversione di tutti gli oggetti da fornaci a carbone a fornaci elettriche il problema che ci era sorto l'altra volta e che stavo risolvendo con i radiofari io li chiamo radiofari ma sono solo dei fari e basta è quello della velocità di produzione dei vari oggetti questi simpatici oggetti vengono praticamente anzi praticamente finalmente lavorati ad una velocità abbastanza decente da permettere il nastro full salva fatta rara eccezione per il ferro che come potete vedere ogni tanto purtroppo a causa dell'accumularsi delle ricerche che sto facendo e tutte le balle varie e anche forse un po' il rame ogni tanto ma questo qui del rame mi giunge nuova perché non lo sapevo viene un attimo diciamo interrotto il flusso costante di oggetti che vanno a prodursi noi quindi cosa abbiamo fatto? siamo arrivati al punto in cui tra una balla e l'altra abbiamo raggiunto quasi e dico quasi la totalità delle ricerche che si potevano fare con gli oggetti con le boccette che attualmente abbiamo noi adesso abbiamo esattamente giusto per la cronaca ne mancano 4 o al massimo 5 o 6 se ci fosse la forza frenante 4 e il bonus della capacità no allora il bonus della capacità di dislessia portami via dai che ce la facciamo dicevo il bonus degli insertori è al livello stiamo facendo la ricerca di livello 6 che è questo qua il livello 7 chiede già una boccetta gialla quindi non ci serve sappiamo già che non serve già più questa cosa qua poi abbiamo il modulo di efficienza di livello 3 che non abbiamo ancora ricercato ma possiamo ricercare benissimo quindi sono già due ricerche da completare anzi una è già quasi completa che è quella degli insertori poi abbiamo la forza frenante dei treni che ne abbiamo ben 3 perché questo è ancora da fare 3 da fare quindi con le due di prima diciamo che siamo a 5 e questa ricerca qua del petrolio che converte il carbone in petrolio che potrebbe esserci inutile perché per adesso non la sfrutteremo quindi probabilmente non abbiamo quasi più ricerche da fare con le boccette viola dobbiamo quindi avviarci nel fare le boccette gialle le boccette gialle che le abbiamo già sbloccate sono queste qui e si producono con il famosissimo processore il telaio del drone e la struttura a bassa densità sono tre menate di cazzo epocali anche perché per produrre le boccette gialle che sono queste qua abbiamo bisogno di due processori che costano tra virgolette uno sfaccello di oggetti il telaio del drone perché ne serve soltanto uno e la struttura a bassa densità allora intanto abbiamo finito la ricerca per la struttura a bassa densità ci serve la plastica, l'acciaio e un chilotone e mezzo di rame e ni nel senso che si ci va bene perché non sono oggetti troppo lavorati per il processore sapete già che c'è tutta questa trafila qui da fare per avere i processori viola o blu che sia non so perché ogni tanto li chiamo viola ma comunque il processore blu o il chip blu chiamatelo un po' come cazzo mi pare e invece la cosa ho sbagliato scusate la cosa più stronza da ottenere è il processore sicuramente ma anche il telaio del drone non è proprio il massimo ecco perché il telaio del drone se lo trovassi ma sicuramente non lo trovo perché sono ciecato eccolo qua gli serve il motore elettrico il circuito elettronico la batteria e la piastra d'acciaio diciamo che la cosa più complicata tra tutte da fare è la batteria ma secondo me ce la possiamo ancora giocare non vedo grosse problematiche per il telaio del drone la problematica più grossa è sicuramente quella dei processori blu o dei chip blu che sono i più stronzi perché praticamente dovrai ricopiare tutto questo impianto qua un'altra volta ed effettivamente si ci stia con lo spazio ci stiamo perché abbiamo tutta questa zona disponibile e quindi ci toccherà farlo purtroppo bisogna farlo però questa cosa qui io onestamente la tratterai in una puntata successiva anche perché visto che ogni tanto scarseggia il ferro e il rame dovrò sicuramente attivare un'altra linea per la produzione noi per adesso oggi ci, anche se ho già perso un po' di tempo ci limitiamo a fare cosa? ci limitiamo a fare una cosa molto simpatico ovvero farci quella cazzo di armatura di merda perché effettivamente è un po' una menata di cazzo allora per l'armatura che l'ho messa diciamo in autocrafting ci mancano degli oggetti perché esattamente ci mancano i processori perché i motori elettrici e il resto l'avevamo già inserito nel contesto io mi dimentico che la strisciata blu è quella che va nel verso giusto ma non la sfrutterò mai allora tornando a noi la strisciata blu che è quella dei processori dobbiamo farla arrivare vagamente in questa zona allora questa zona che è quella del mall guerra fondaio come l'ho sempre soprannominato io quindi noi per comodità anche se qui abbiamo già le simpatiche pile che rompono i coglioni noi dobbiamo fare una una cosa un passaggio sotterraneo di qualche tipo modo o maniera e cose del genere allora facendo due conti io qui faccio il passaggio vediamo se ho fatto i conti giusti allora qui ci metto lo splitter poi qui ci metto l'underground per avere un buco libero non che se è così era un po' brutta poi qua ci metto un altro underground che però va verso l'alto e questo qua lo collego con una belt una prima dritta e poi storta che porta verso l'alto qui essendoci il palo della luce che non mi ricordo a cosa serva ma secondo me serve ma corrente gli arriva lo stesso quindi nel dubbio guardate facciamo così così abbiamo questo lo tolgo funziona tutto lo stesso perfetto ok allora continuiamo con il nostro coso continuiamo con la nostra strisciata di oggetti che vanno verso l'alto qui facciamo passare l'underground sotto al tubo e poi dobbiamo salire fino verso l'infinito e qui adesso c'è il palo della luce che ci viene a rompere un po' le palle ma non è no neanche troppo pensavo peggio quindi noi cosa facciamo qui facciamo che allora il motore elettrico glielo teoricamente glielo sposta si mi manca il chip verde al motore elettrico ahia il chip verde arriva da non ce l'ho qua sulla destra devo farlo arrivare da sinistra quindi questa cosa molto brutta è questa è una cosa molto brutta perché devo fare una cosa del tipo che devo farlo arrivare qua il chip verde già vediamo un attimo il chip verde come se può fa il chip verde semplicemente guardate facciamo una cosa molto easy o facciamo passare qua sotto qua ci mettiamo un braccetto verde che sposta gli oggetti che saranno poi gli insertori non gli insertori buonanotte che saranno i processori blu questo lo metto che gira all'insù e siamo vagamente a posto poi per il coso verde noi qui abbiamo questo piccolissimo spazio a disemozione quindi noi facciamo passare sotto questo e di qua facciamo una cosa molto brutta che è girare in questo modo non è bellissimo da vedere però lo facciamo così e poi qua adesso risaliamo per avere modo in maniera che questo si prenda i chip verdi e ci mettiamo un palo della luce perfetto lui teoricamente crafta adesso il motore e lo passa poi alla nostra simpatica armatura che verrà prodotta ok qui in questo spazio qua vediamo cosa possiamo metterci perché abbiamo due cose a disposizione da inserire però essendo verso fine episodio e abbiamo anche sparato fin troppe cazzate fino adesso direi signore che ci salutiamo nel prossimo episodio avremo già l'armatura e inizieremo finalmente a costruirci le zone i pezzi dell'armatura probabilmente non nel mall perché l'armatura tendenzialmente dovrebbe renderci quasi invincibili e quindi non servono tanti oggetti per adesso nel dubbio ci salutiamo ci vediamo nella prossima puntata con l'armatura fatta e tante altre bellissime cose un saluto a tutti e alla prossima ciao ciao ciao